Andiamo avanti, leone? Sì, andiamo con il leone, questa è una giornata in cui voglio ancora mettervi in guardia dai piccoli incidenti domestici, soprattutto dalle scottature, quindi quando siete ai fornelli fate molta attenzione, però è proprio tra le parenti domestiche che vivrete le emozioni più intense che possono essere portate dai vostri familiari, dai vostri parenti, quindi una giornata da dedicare anche proprio in rapporto con i parenti o anche dai vostri figli, insomma una giornata in cui i rapporti più stretti, i rapporti con le persone chiamate possono risultare davvero appaganti. Andiamo al segno della Vergine, una domenica in cui avrete...